Scusi, sono un marcedo del fatto quotidiano. Come funzionerà il partito in questi mesi, considerando che probabilmente nel 2017 si va a votare sia che il referendum vada bene per Renzi, sia che il referendum vada male per Renzi? Ma vede, se Travaglio un giorno c'è il raffreddore, non è che il fatto che è un bellissimo giornale che io leggo tutti i giorni tra i primi si ferma. Se Travaglio c'è il raffreddore, Travaglio sta a casa, si cura e il fatto va avanti lo stesso. Perché vede, la qualità di un'organizzazione si misura non tanto quanto c'è il capo, la direzione che controlla, ma quando la direzione e il capo si assenta per una qualche ragione. Quindi non ho alcun dubbio che il fatto quotidiano funzioni bene anche senza Travaglio. Magari a volte potrebbe funzionare meglio anche. questa è una battuta. Dico, in questo momento Forza Italia vede, domani abbiamo un ufficio di presidenza perché dobbiamo approvare i bilanci perché per legge eccetera, ci riuniamo tranquillamente, non abbiamo alcun problema. Siamo visto anche delle sue dichiarazioni alle agenzie di questa mattina e quindi si diceva che bello un paese in cui tutti si vogliono bene. Ecco, e questa è assolutamente condivisibile come sentimento. Purtroppo questo paese si è per troppo tempo imbarbarito e quindi grazie Presidente Berlusconi che anche con questa prova ci dai una via di riconciliazione. Per quanto io penso che dovrebbero operarlo domani o dopo domani quindi questo è quanto e penso ne avrà un paio di giorni di terapia più o meno intensiva e poi ci sarà la riabilitazione e così via. Beh, l'uomo dà il meglio di sé, ecco questo lo posso dire, nei momenti di difficoltà.